Sente il corredo di tutti gli atti buoni degli altri e per tutto ama, glorifica il fiat divino come se fossero suoi. Ed il mio volere si sente ridare da essa le sue opere, quindi l'amore, la gloria delle sue opere divine e ripetere col ricordo la gloria e l'amore delle altre creature. Oh, quante opere messe in oblio, quanti sacrifici, quanti atti eroici dimenticati che sono stati fatti dalle umane generazioni che non ci si pensano più e quindi non viene la ripetizione continua della gloria né chi rinnovi l'amore di quegli atti. Ma la mia divina volontà, formando la sua vita nella piccolezza umana, fa sorgere il ricordo di tutto per dare e per ricevere tutto, accentra tutto in essa. E forma il suo accampamento divino. Perciò sia attenta a ricevere queste onde del mio volere. Esse si riversano su di te per cambiare la tua sorte e se tu la ricevi, sarai la sua fortunata creatura. Dopo ciò continuavo a pensare alla divina volontà e pensavo tra me. Ma come si può formare questa vita divina nell'anima? E il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, la vita umana è composta di anima, di corpo, di membra distinta l'uno dall'altro. Ma chi è il moto primario di questa vita? Alla volontà. Sicché senza di essa non potrebbe fare le belle opere, né acquistare scienza, né essere capace di insegnarle. Perciò tutto il bello della vita scomparirebbe dalla creatura. E se bellezza, dote, valore e ingegno possiede, si deve attribuire al moto d'ordine che tiene la volontà sulla vita umana. Ora, se questo moto d'ordine lo prende la mia divina volontà sulla creatura, vi forma dentro di essa la vita divina. Sicché, purché la creatura si sottoponga a ricevere il moto d'ordine della mia volontà dentro e fuori di sé, come moto primo di tutti gli atti suoi, già viene formata questa mia vita divina e prende il suo reggio opposto nel fondo dell'anima. Il moto dice vita. E se il moto ha il principio di una volontà umana, si può chiamare vita umana. Se invece il principio è della mia volontà, si può chiamare vita divina. Vedi com'è facile formarla questa vita, purché la creatura lo voglia? Io non voglio, né chiedo mai cose impossibili dalla creatura. Anzi, prima la facilito, la rendo adattabile, fattibile e poi le chiedo. E mentre le chiedo, per essere più sicuro che possa fare ciò che voglio, mi offro io stesso a fare insieme con essa ciò che voglio che faccia. Posso dire che mi metto a sua disposizione affinché trovi luce, grazia, forza. Santità non umana ma divina. Io non ci bado né a quello che do né a quello che faccio quando la creatura fa ciò che voglio. L'abbondo tanto da farle sentire non il peso ma la felicità del sacrificio che sa dare la mia divina volontà. E come la vita divina tiene la sua vita, le sue membra distinte, le sue qualità, così il nostro essere supremo tiene le sue qualità purissime, non materiali, perché in noi non esiste materia, che formano la nostra vita, unite insieme santità, potenza, amore, luce, bontà, sapienza, onniveggenza di tutto, immensità, eccetera. Ecco ciò che forma la nostra vita divina. Ma chi costituisce il moto, chi regola, chi svolge con un moto incessante ed eterno tutte le nostre qualità divine? La nostra volontà. Essa è la motrice, la dirigente che dà a ciascuna qualità nostra la vita operante. Sicché se non fosse per la nostra volontà la nostra potenza sarebbe senza esercizio, il nostro amore senza amare e così di tutto il resto. Vedi dunque come il tutto sta nella volontà e perciò con darla alla creatura diamo tutto. E siccome sono le nostre piccole immagini create da noi, i nostri fiati, le piccole fiammelle d'amore sparse da noi in tutto il creato, ecco perciò noi demmo loro una volontà libera, unita alla nostra, per formare i nostri facsimili da noi voluti. Non vi è cosa che più ci glorifica, che più ci ama, che ci rende contenti, che trovare la nostra vita, la nostra immagine, la nostra volontà nell'opera nostra da noi creata. Perciò il tutto affidiamo alla potenza del nostro Fiat per ottenere l'intento. Figlia mia, tu devi sapere che tanto nella nostra divinità, nell'ordine soprannaturale, quanto nell'ordine naturale delle creature, vi è una virtù in natura, una prerogativa innata, di voler produrre vita, immagini che le somigliano, e quindi una smaine d'amore, un desiderio ardente di riversare se stesso nella vita e nell'opera che si produce. In tutta la creazione non vi è cosa che non ci somigli. Il cielo ci somiglia nell'immensità, le stelle, nella molteplicità delle nostre gioie e beatitudini infinite, nel sole c'è la somiglianza della nostra luce, nell'aria la somiglianza della nostra vita che si dà a tutti e di tutti, e nessuno ne può sfuggire, ancorché lo volessero. Nel vento, che mentre si fa sentire con impeto, ora come carezzando dolcemente le creature e tutte le cose, ma non lo vedono, è rassomigliata la potenza nostra e la nostra onniveggenza, perché tutto vediamo, tutto sentiamo, e come impugno tutto racchiudiamo, eppure non ci vedono. Insomma, non c'è cosa che non è la nostra similitudine. Tutte le nostre opere danno di noi, ci decantano, e ciascuna tiene l'ufficio di far conoscere ciascuna qualità del loro creatore. Ora, nell'uomo non era solamente un'opera che facevamo, ma vita umana e vita divina che creiamo in lui, perciò aneliamo, vogliamo, sospiriamo di riprodurre in lui la vita e l'immagine nostra, giungiamo fino ad affogarlo d'amore, quando non si fa affogare, perché è libero di se stesso, giungiamo a perseguitarlo d'amore, non facendogli trovare pace in tutto ciò che sfugge da noi, non trovando noi stessi in lui, gli muoviamo guerra incessante, perché vogliamo la nostra immagine bella, la nostra vita riprodotta in lui. E siccome tutte le cose sono fatte ed innestate da noi, anche nell'ordine naturale, c'è questa virtù di voler produrre cose e vita simile, guarda una madre che genera un bambino, ma tutte le sue ansie e desiderie, che lo vuole simile a sé e sospira di vederlo alla luce, simile ai suoi genitori, e se il bambino è simile a loro, sono tutti contenti, se ne fanno un vanto, lo vogliono far vedere da tutti, lo crescono con le loro abitudini, a modo loro insomma, questo bambino diventa la loro preoccupazione e la loro gloria. Ma se invece è dissimile ai genitori, brutto, deforme, o come ne restano amareggiati, tormentati, giungono a dire con sommo dolore, ma pare che non sia figlio nostro del nostro sangue, vorrebbero quasi nasconderlo per non farlo vedere a nessuno, sentendosi umiliati e confusi, e questo bimbo sarà la tortura dei loro genitori per tutta la vita. Tutte le cose posseggono la virtù di riprodurre cose simili. Il seme produce l'altro seme, il fiore l'altro fiore, l'uccello l'altro uccellino, così di tutto il resto. Non produrre cose simili e andare contro natura divina ed umana. Perciò il non avere la creatura simile a noi è uno dei nostri più grandi dolori e solo chi vive di volontà nostra potrà essere di gioia e portatrice di gloria e di trionfo per la nostra opera creatrice. Allora anche oggi qui amici miei, questo brano è anche moderatamente lungo, quasi 13 minuti di lettura, per cui sarà una di quelle volte in cui mi dovrò vergognare al termine di questo brano che di tutte quante le ricchezze infinite che contiene abbiamo detto poco più di un H. E pazienza, capita anche questo dovendo meditare cose tanto eccelse, tanto immense e tanto grandi. Qui peraltro, io quando avevo letto il preambolo, dico quasi quasi oggi ci metto punto e facciamo tutta la meditazione sul preambolo. Poi ho avuto l'imprudenza di andare avanti e per cui adesso ci si trova divanti un mare magnum infinito che come faremo il Signore ci aiuterà. Andiamo a vederlo questo preambolo. Cioè basta basta un attimo ascoltare queste parole e fare un attimo prendere un respirone, fare un attimo di silenzio, cercare di di chiudere gli occhi, di percepire questa cosa. Adesso che dice Gesù sono il volere eterno che ti sto sopra, che ti circonda ovunque, che investo il tuo modo, il tuo respiro, il tuo palpito per farlo mio. Capite che spettacolo. Il volere eterno che ti sto sopra. Adesso dico una piccola cosa. Voi sapete che avete visto che i vescovi, i cardinari, una volta veramente pure i preti, ma adesso è andato in disuso e se qualcuno se lo mette io per qualche periodo della mia vita l'ho messo, ci manca solo quello per andare ad attirare ancora di più l'attenzione. Anche il Papa lo porta. Portavano sulla testa lo zucchetto. Lo portano ancora. Veramente i vescovi che vanno vestiti vanno vestiti in clergyman diciamole a forma elegante. Quando c'è il clergyman chiaramente lo zucchetto non c'è. Anche i cardinali vanno vestiti in clergyman e me spesso e volentieri quindi lo zucchetto non lo portano perché lo zucchetto si porta sopra la resta da rare. Il Papa per grazia di Dio va ancora vestito da Papa. Speriamo che lo faccia ancora perché non si sa mai insomma se un giorno mi si perdoni l'ironia amara e presentare un Papa con il clergyman bianco insomma. Speriamo di no. Però non ci sta più niente di cui stupirsi dinanzi a tutto quello che si vede. In ogni caso lo zucchetto che è stato preso dalla tradizione ebraica sapete che gli ebrei osservanti portano la kippah si chiama che è molto simile allo zucchetto significa proprio il vivere cioè che tu sei consapevole di vivere alla scechina sotto alla scechina di Dio sotto l'ombra dell'artissimo sotto che il volere divino ti sta sopra che non ti perde d'occhio mai che ti circonda dovunque. È una cosa molto bella molto bella un tempo tempi ormai lontani chissà se torneranno voi sapete che gli ecclesiastici avevano la cosiddetta chierica che cos'era la chierica? La chierica era una rappresentazione un segno di disprezzo del mondo ed una rappresentazione della corona di spine ricordate le immagini che si vedono soltanto nel nome della rosa quindi rimaneva questo cerchio di capelli che di fatto descriveva una corona e quella era la corona di spine un segno di disprezzo del mondo e di conformazione a Cristo crocifisso e veniva coperto perché più o meno lo zucchetto abbracciava la superficie della parte del capo rasata pensate anche l'importanza di questi segni vabbè adesso se mi metto a parlare anche di questo non andiamo oltre ecco vabbè sono soltanto suggestioni poi ci possiamo se crediamo opportuno pregare anche un po' sopra perché non è detto che queste cose non tornino ci vorrà un po' di tempo ma chissà cosa fa si inventerà il nostro Signore allora poi dice ancora sono l'immenso che mi voglio restringere nella piccolezza umana sono il potente che mi diretta a formare la mia vita nella debolezza creata sono il santo che voglio tutto santificare tu prestami attenzione e vedrai quello che farò nell'anima tua ma queste sono delle cose bellissime non c'è tanto da meditare bisogna rievocarle queste cioè mettili davanti al Signore e sentitele dire tu queste cose qui soprattutto la parte finale prova a farmi attenzione e vedi un po' e dopo vedrai quello che succede prova guarda e poi il nostro Signore ci parla di una sua grande virtù che dovrebbe essere anche la nostra la costanza ferrea dice io che cosa faccio allora io ti perseguito se tu non mi accogli ti perseguito se tu mi accogli ho alla grande ma se no io continuo a circondarti a chiamarti a richiamarti ti metto in situazioni che ti cerco di far rendere conto quanta brutta la mia vita la tua vita senza di me senza la mia cosa questo faccio questo faccio e poi sai che cosa fa la mia volontà guardami sono io conosci mi dice ancora oggi è proprio un'interpellanza per questo che questa meditazione va veramente vissuta in privato proprio 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 perché noi dobbiamo rispondere dobbiamo interloquire con il Signore dinanzi a queste cose guardami sono io conosci che gli dici tu al Signore lo vuoi guardare lo vuoi conoscere guarda che lui viene per formare la tua vita in tre ti fa un assalto c'è un assalto l'assalitrice c'è un assalto dentro e fuori vuoi sapere che cosa farà questa volontà divina guarda te lo dico io dà vita richiama vita a tutto fa sorgere in questa vita tutto ciò che ha fatto tutto ciò che hanno fatto di bene alle creature dice sai quanti atti d'amore quante penitenze hanno fatto in passato ma stanno nel passato stanno a sacrifici atti eroici dimenticati la mia divina volontaria fa tutti quanti vivere e li rende tutti quanti attuali se tu entri in lei tu rinnoverai quegli atti eroici che neanche conosci e li offrirai ancora al Signore come se fossero compiuti adesso e poi c'è una bellissima lezione attenzione sul primato della volontà e oggi Gesù ci spiega anche un pochino che cos'è la divina volontà dentro la Santissima Trinità dentro Dio stesso allora amici cari tu puoi essere intelligente quanto ti pare ma se non se non ti metti a studiare metterti a studiare l'atto della volontà ma che ce fai con l'intelligenza che Dio ti ha dato te la metti dentro un cassetto che ci fai tu puoi essere un fenomeno uno che c'è il talento della musica ma tu devi prendere lo strumento che te pare il violino il pianoforte la chitarra prendi quello che te pare e ti metti a sputa sangue sopra perché per quanto puoi essere portato tu devi studiare per diventare un fenomeno c'hai il talento ma tu lo devi mettere in atto ricordate le parabole dei talenti no? questo vale per tutte le cose io sono un prete ma io devo benedire io devo celebrare i sacramenti io devo predicare se no che ce l'ho a fare il ministero del sacerdozio se io non facessi niente di tutto questo è chiaro che io prete sarei lo stesso quei disgraziati di preti i poveracci sciagurati che lasciano il ministero per andare al vomito perdonatemi della vita mondana ma non c'è niente da perdonare perché quello è quelli sacerdoti rimangono cioè se quelli celebrassero una messa farebbero un peccato mortale perché non possono esercitare lecitamente il ministero ma la messa la celebrerebbero ma che ci fanno con qualsiasi sottosio che ci hanno vogliamo vogliamo andare a stuzzicare un po' no? una coppia di sposi hanno da fare i figli e i figli hanno un atto di volontà perché se sempa sticcano dei anticoncezionali dalla mattina alla sera i figli non li fanno chiaro? quindi cosa c'è dietro c'è sempre la volontà dietro i nostri atti la volontà è la regina il diavolo si è pervertito intelligente com'è perché ha fatto un atto di volontà completamente la sua volontà perversa ha inibito la sua intelligenza infinita che è così cretino ad andarsi a mettere contro Dio se la volontà non si fosse pervertita ma lui è intelligente lo capirebbe benissimo che ti va a mettere contro Dio ma che sei scemo ma come fai a metterti contro Dio ma non si può competere contro Dio tu puoi fare tutto quello che vuoi ma c'è una distanza inconmensurabile non puoi non puoi vincere contro Dio è impossibile l'intelligenza per capire questa cosa Lucifero ce l'aveva il problema è che si è pervertita la volontà il primato della volontà è la cosa più nobile che noi abbiamo allora qui si tratta semplicemente che cosa vuoi farci con questa volontà che hai vuoi metterla in atto per il bene vuoi metterla in atto per fonderla con la mia guarda che farò quasi tutto io l'importante è che tu lo voglia io non chiedo cose impossibili tu voglilo e poi vedrai che ci penso io è fattibile quello che faccio non si beh tante gente che dice io non vivo nella volontà io non ci vivrò mai ma non ci vivrò mai se non vuoi viverci mai non è vero se non vuoi stai tranquillo che non ci vivrai mai certo il Signore ti perseguirà fino a quando mori ma se non vuoi non ci vivrai mai ma se vuoi ci vivrai e come i difetti Gesù usa certe espressioni saranno spolverizzati ci sono tanti difetti sono tanto umano non ti preoccupare tu impegnati mettici la costanza ferrea come Gesù e poi vedrai quello che succede allora dice no vuoi sapere che cos'è la volontà in noi allora dice stammi a sentire figlio mio tu lo sai che Dio è santo no Dio è potente è onnipotente Dio è amore giusto Dio è amore ma che ci fa con l'amore che ha Dio se non sceglie di amare cioè l'amore è una qualità ma perché quella qualità diventa poi qualche cosa che fa un'opera d'amore deve metterla in atto o no e chi la mette in atto la volontà l'onnipotenza di Dio Dio può fare tutte le cose Dio può fare tutte le cose ma quella cosa sarà fatta se Dio vuole farla no cosa diceva Gesù quando faceva un miracolo lo voglio si guarito leggete gli scritti di Maria Valtorto ogni volta che faceva un miracolo diceva sempre voglio perché basta che lui dice voglio se dice voglio ragazzi non ce n'è più per nessuno cioè la sua potenza è tradotta in atto e dinanzi alla potenza di Dio non può resistere nessuno chiaro la luce bisogna vedere se Dio vuole illuminarti vorrei darti il discernimento se dice voglio e tu ce l'avrai il discernimento sarai illuminato a volte diventi diventi un faro di luce bisogna vedere se dice voglio dice è tutto dipendente dalla nostra volontà è la motrice la dirigente la nostra potenza lo spiega Gesù stesso sarebbe senza esercizio il nostro amore senza amare bellissimo la potenza senza esercizio che serve che sei onnipotente se poi la tua potenza non la metti in atto mai immaginiamo per assurdo che Dio fosse rimasto onnipotente fosse rimasto sempre da solo con le sue tre persone divine che ce la fa l'onipotenza sì vabbè l'esercito è dentro di sé ma poi che ce la fa l'amore se non ama eh allora e poi conclude ma abbiamo fatto presto meno male miracolo e poi conclude Gesù dopo aver fatto tante altre belle immagini che speriamo che lo Spirito Santo ve le spezzi ve le illumini conclude dicendo quelle cose bellissime ecco invita datti un'occhiata in giro guardate intorno da un'occhiata in giro molta gente dice ma che saranno sti giri qua è una diventata bisogna fare i giri ma che caspita so i giri ma come diciamo noi no? e datti un'occhiata in giro datti un'occhiata datti da un'occhiata in giro quello è un giro certo è quello è un giro da un'occhiata in giro arza l'occhi che guardi guardi il cielo comincia a fare un atto di volontà e attiva i neuroni è grande il cielo no? quello che noi vediamo è immenso e quindi a che te fa pensare c'è l'immenso uno dei quattro attributi della divinità l'immensità di Dio Dio è in cielo e in terra in ogni luogo è immenso è incircoscrivibile cosa disse Dio ad Abramo una notte date un'occhiata in giro una notte col cielo sereno date un'occhiata in giro fate un giro alza un po' la testa un'altra volta guarda un po' che ci sta nel cielo vedi un po' se riesci a contare tutti quanti quei puntini bianchi passaci una notte intera prendi il pallottoliere pia la carta e penna con calma e racconta una per uno e vedi un po' a che punto arrivi vedi un po' quanto ci metti ce la fai? non ce la farai non ce la faccio sono troppe ecco sai cosa sono quelle troppe? la molteplicità delle nostre gioie e beatitudini infinite quante volte ce lo siamo detti che la divina volontà è una è un generatore ininterrotto avete visto i generatori o una sorgente è la stessa cosa non sta facendo altro che produrre in continuazione gioie e beatitudini nuove guardate che queste cose cominciano nella vita terrena la vita terrena quando si vede ma guardate che è una cosa meravigliosa perché la vita con Dio è sempre una vita di felicità ma non sono sempre le stesse sono diverse sono simili ma anche diverse e questo bisogna viverlo bisogna Dio non si ripete mai voi fate un altro giro? bene fa un bel respirone dai fa un po' un bel respirone uno che espiri e l'altro che espiri non c'è bisogno che te sei sfidato alla chimica no? quindi nell'aria che c'è nell'aria? c'è l'ossigeno c'è l'idrogeno c'è l'azoto questo lo sanno i chimici pure se non lo sai ma se tu non respiri non campi no? e non è che l'aria si paga oppure si consuma stanno tutti quanti attenti a tutte quante quelle cretinate del green dei risparmi energetici tutte stefane scacce qui che beata chi gli va dietro che c'ha tempo da perdere no? che l'aria finisce quanti miliardi di persone si sono respirate in aria non è che se qualcuno ti sta vicino che ti frega l'aria che ti è non respira troppo forte se non finisce no e quindi? e l'aria poi ci circonda a tutti quanti non possiamo sfuggire dall'aria a meno che ti vai a mettere dentro qualche camera iperbarica dentro qualche qualche posto sottovuoto che caspita ne so te ne vai in fondo al mare da fuochi poi perché là se non respiri da fuochi quindi dove vai? e questa è la vita di Dio questo è Dio che te l'ha detto all'inizio il mio volere sta sopra di te ti circonda ti investe dovunque non è tanto difficile no? puoi sentire il vento il vento quanto è bello il vento per esempio quando l'estate si schiatta di caldo avete visto uno un attimo all'ombra e si sente quella brezzolina freschina che uno dice mamma mia ma che bello proprio con quattro bico a Roma bello no? e quella è una carezza no? sono le carezze che il nostro Signore ce le fa a continuazione oppure a volte l'impedo la potenza irresistibile Gesù lo usa anche nell'immagine nel colloquio con Nicodemo i figli dello Spirito Santo sono come il vento partono sono schegge d'accordo che se ne vanno dovunque li muove e dovunque li chiama la volontà di Dio no? eccetera cosa può continuare a tempo indeterminato perché? perché tutte le cose che abbiamo fatto noi hanno una nostra similitudine sappiamo bene che una delle caratteristiche della vita è una volontà non soltanto andarla a cercare dopo dopo un po' uno diventa molto molto familiare non serve più che le cercare perché siccome la già trovate se le gode in continuazione ora bellissima poi l'immagine che fa alla fine allora noi cerchiamo sempre di riprodurre qualcosa che ci assomiglia pur i preti lo fanno lo dico io sapete che ora faccio fare una risata perché qualcuno mi chiede pure a me quando a padre Pio gli dicevano padre io voglio diventare suo figlio spirituale sua figlia spirituale sapete che rispondeva padre Pio dice sì sì voglio perché non mi fai vergognare perché tu sei figlio mio spirituale se mi assomigli cioè se vivi quello che io dico se metti in pratica quello che predico verissimo questo qua io i miei figli riconosco subito subito non è che uno fa che è superbo cioè lo vedi cioè quella è una persona che tutte le cose che hai detto e che hai insegnato l'ha messo tutte in pratica dall'esterno si vede sia le cose esterne e anche alcune cose interne che traspaiono all'esterno così come non si vede così come si vede benissimo quando una persona non ha fatto questo io non mi dimenticherò mai una cosa un giorno uno dei giorni belli della vita ci fu una volta insomma che una coppia di miei figli spirituali che avevano un bambino piccolo al seguito andò a messa da una persona che che non sapevano chi erano però mi conosceva e che succede questi ragazzini in braccio tutti e due racconto sta cosa qui sono andati a fare la comunione e sono ginocchiati con il ragazzino in braccio sto prete che dice guarda questi si vanno in giro con il ragazzino in braccio alla fine della messa li chiama e gli dice che bravi che siete insomma alla fine esce fuori che loro erano figli spirituali di Leonardo dice ah ho capito adesso è tutto chiaro capite perché noi facciamo le cose simili facciamo le cose e se tu c'hai dice Gesù se te nasce un figlio che poverino c'ha nessuna colpa ma per qualche scherzo strano dice Gesù me lo vado a prendere un attimo perché non voglio insomma andare a dire no dunque se il bambino è simile allora se invece è simile ai genitori brutto deforme e quelli lo vedono e dicono mamma mia mamma mamma questo è un massomia per niente ed è un dolore no insomma perché fa avuto sto discorso Gesù perché se noi viviamo nella divina volontà noi diventiamo dei piccoli dei cioè noi siamo figli di Dio figlio di Dio già per il battesimo cioè un figlio al genitore gli assomiglia quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio scrive San Giovanni e lo siamo realmente cioè ci dovremmo impazzire capite simili a Dio è tanta roba se io sono brutto mostro poverino sono brutto che ne assomiglio per niente all'altissimo sto pieno di vizi sto pieno di cose che non c'hanno niente a che fare insomma con Dio vuol dire che non vivo all'ombra della divina volontà cioè la divina volontà mi sovrasta sempre perché sovrasta ogni creatura ma io non vivo volontariamente alla sua ombra e quindi domanda retorica saremo dissimili a tristezza dell'altissimo che non è certamente contento ma diceva rimette è tanto siamo sempre solo noi andiamo la sua ombra grazie ancora oggi signore Gesù per tutto quello che ci doni anche attraverso queste bellissime considerazioni di oggi in questo scritto, in questa meditazione tantissime sono le suggestioni ma quello che ti chiediamo quello che ti chiedo io anche per tutti quanti questi tuoi figlioli e che possiamo instaurare un bellissimo dialogo d'amore, ecco a partire da quello che abbiamo ascoltato e rinnovare le nostre scelte davanti a te, perché se non ci decidiamo noi a tante cose, nessuno può decidere al posto nostro nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria